buongiorno e buona giornata buona e bellissima domenica a tutti cari amici dal sottoscritto nicola de lucia in questo primo video di oggi parliamo della nostra fortitudo basketraniche purtroppo a noi ha perso in quel di brindisi contro la dinamo per 106 a 75 con i parziali rispetto ai 21 19 29 18 28 24 28 14 dalla fonte a cui sto prendendo i tabellini del trani che ora ve li vado a dire de leon ramon 25 trilione 14 di lauro 13 logoluso 13 barbara 10 accella niente enrique niente pugliese niente alfonso niente non è entrato e quindi insomma per la fortitudine un altro capo però mi raccomando ragazzi non molliamo anche perché la settimana prossima arriva una grande squadra tranne la virtus moffetta che al momento è vice capolista ma bisogna attendere il responso della partita che i moffettesi giocheranno oggi in casa contro l'adia a ladri a bari bene quindi ribadisco la fortitudine baschettrani purtroppo ma io sono sicuro che i nostri ragazzi ce la metteranno tutta fino all'ultimo per salvarsi ed evitare la retrocessione perde a brindisi contro la dinamo a 106 a 75 ci vediamo tra un po per un altro video ciao